Strada Provinciale 88 Sangrina, a breve la riapertura del tratto all'altezza di Sant'Angelo del Pesco interdetto al traffico pesante. Volgono dunque al termine i pesanti disagi per l'utenza e le ricadute negative sull'economia del territorio derivanti dal blocco imposto a tir, mezzi d'opera e similari veicoli pesanti. Il superamento delle impasse grazie al recente accordo tra Regioni Molise e Abruzzo, Ente Provincia di Sernia e Anas. Strada Provinciale 88, a breve partiranno i lavori, almeno quelli inizialmente curati dall'Anas, questa è una notizia concreta ed importante. Concreta ed importante sì, sono circa 5-6 anni che il problema persistiva su quell'arteria, un'arteria importante, trafficata, di traffico pesante e purtroppo non si era trovata fino ad oggi una soluzione. Purtroppo siamo dovuti arrivare alla chiusura della strada, un'azione ovviamente di forza che però ha permesso entro 15 giorni dalla chiusura della strada di mettere intorno a un tavolo Provincia di Sernia, Anas, Regione Abruzzo e Provincia di Chieti per trovare una soluzione al problema. L'Anas si è fatta carico di interventi di somma urgenza da fare entro brevissimo per poterla riaprire perché è importante riaprire questa strada però con degli interventi, non così come adesso perché è una trappola, è un rischio troppo forte, troppo grande. Successivamente sempre l'Anas nell'ambito di un accordo più ampio gestirà la strada per la manutenzione ordinaria e straordinaria fin quanto la SS 652 Fondo Valle Sangro non sarà terminata. Questo risultato forse è una prova che da parte vostra, da parte dell'ente Provincia, l'azione di forza a volte paga. Purtroppo sì, purtroppo a volte paga, purtroppo è difficile costruire questa cosa ma è stato effettivamente così. Se non chiudevamo la strada oggi stavamo ancora alle condizioni in cui eravamo sei mesi fa. Altra novità riguarda il passaggio ad Anas della gestione e quindi della manutenzione di 145 chilometri di strade sul territorio della Regione Molise, fin qui in carico alle province. Un esito quest'ultimo che sgrava non poco gli asfittici bilanci di quegli enti territoriali. Ovviamente è una cosa che valuto positivamente per gli utenti. In realtà queste strade non sono da sempre provinciali, erano statali fino al 2001. Nel 2001 l'Anas le ha retrocessi alle regioni e a loro volta alcune regioni come il Molise le hanno date in gestione alle province. Ovviamente oggi con le province, con lo stato di sesto e predissesto che hanno, assenza totale di fondi, non possono ottenerle. Quindi non possono garantire agli utenti una circolazione sicura. Quest'anno stiamo facendo lo sfalcio dell'erba con i vecchi mezzi venduti all'asta. L'anno scorso lo facemmo con una casa cantoniera venduta. Non è possibile lavorare in queste condizioni purtroppo. Da amministratore, ma da esponente politico, questo risultato recentemente raggiunto, credo sia per lei motivo di soddisfazione e anche di tranquillità. Sì, soddisfazione e orgoglio perché il lavoro intenso paga e anche di tranquillità ovviamente perché comunque purtroppo anche con le recenti normativi sull'omicidio stradale uno che subisce un incidente su una strada per una segnalatica coperta si configura l'omicidio stradale per il presidente della provincia e il direttore del settore di viabilità. Quindi non per me direttamente, però per il mio presidente, il mio responsabile, insomma, non ero tranquillo.